Quando c'è lealtà ed impegno il centro-sinistra vince, lo afferma il leader del Movimento Nazionale in Realtà Italia commentando il voto delle amministrative. Risultati in chiaroscuro al sud per la coalizione trascinata dall'effetto Renzi. Spicca il successo a Bari dove il rispetto degli accordi tra partiti e liste civiche ha retto al ballottaggio, fa notare Olivieri. Altrove, potenza e foggia, la situazione si è capovolta, un inaspettato ribaltone ha spazzato i larghi successi del primo turno. C'è stata la notte dei lunghi coltelli, si affoggia chi ha potenza facendo vincere il centro-destra. Non ha vinto il centro-destra, affoggia potenza, ha fatto sì che il centro-sinistra facesse perdere il centro-sinistra. A Bari invece siamo stati leali sia come Realtà Italia ma tutta la coalizione, siamo stati leali con una sola parola, De Caro doveva diventare sindaco. Insomma il ragionamento è chiaro, il PD non è autosufficiente e per vincere ha bisogno dell'appoggio di tutti e di evitare litigiosità e fuoco amico dall'interno. Realtà Italia ha questo 6% che proporremo anche in regione per la regione Puglia a maggio dell'anno prossimo e il 6% anche per la regione è sicuramente decisivo ma noi di questo siamo più che consapevoli.